Ciao e benvenuti nuovamente nel mio canale e in un mio nuovo video. Oggi andiamo a vedere insieme come si applica la cerniera lampo invisibile. La cerniera invisibile o detta anche nascosta viene attaccata usando un piedino particolare. Usare sempre una cerniera più lunga di 3 cm rispetto all'apertura. Questo perché si può cucire solo fino a un certo punto, prima che il piedino sia fermato dal tiretto, lasciando un tratto della cerniera scucito. È formata da piccoli dentini sul rovescio e al dritto risulta piatta. Nella parte del rovescio i dentini se rialzati formano una scala natura che è facilmente apribile con una leggera pressione sul bordo. Andiamo a vedere insieme quali sono i piedini che vengono utilizzati. Questo è il per cerniere invisibili. Come vedete è diverso rispetto agli altri. Ha una specie di scalalature nella parte di sotto. Come vedete sono due divise in due. Nella parte superiore si presenta in questo modo. Come vedete, il piedino per cerniere standard è questo qui che vi faccio vedere e che sicuramente avrete in dotazione con la vostra macchina da cucire, mentre l'altro probabilmente no. Dovrete comprarlo a parte, ma potete trovarlo tranquillamente su Amazon. Vi lascio come sempre la possibilità di poterlo acquistare. Nel box informazioni troverete il link per acquistarlo su Amazon. Non costa tantissimo, è abbastanza economico. Ne vendono anche di trasparenti, ma vi consiglio diciamo questo rispetto a quello trasparente che magari si può rovinare un pochettino di più con il tempo. E adesso andiamo a vedere come attaccare la cerniera lampo invisibile nel dettaglio. Per prima cosa dovrete andare in taglie e cuci. In questo caso io ho usato la taglie e cuci e rifinite entrambi i lati dei margini di cucitura separatamente. Ed ecco qui. Ho passato in taglie e cuci tutto il perimetro del mio corpetto e soprattutto la parte dove verrà applicata la cerniera. Come vi ho consigliato prima la cerniera dovrebbe essere più lunga di due centimetri. Vi consiglio anche di stirare precedentemente con il ferro i bordi di cucitura aperti per agevolare la guida per inserire la cerniera. Il tessuto è al dritto facendo combaciare i lati al dritto e allineando la cerniera con la linea di cucitura. Appuntare con gli spilli tutta la cerniera e poi imbastire il bordo destro sul lato destro dell'apertura. L'imbastitura è un altro dei passaggi che molte sarte o aspiranti tali cercano di evitare ma ricordate che gli spilli non bastano. Quindi la cosa migliore è imbastire piano piano come sto facendo io e man mano eliminate gli spilli. Solo così potrete bloccare nella maniera più giusta e più sicura la cerniera lampo al nostro capo che dobbiamo lavorare. Tutti i metodi utilizzati per agevolare il nostro lavoro non dico che siano sbagliati però non saranno mai sicuri nella realizzazione comunque del capo finito o perfetto nello stesso identico modo. Quindi arriva di imbastire fino alla fine come sto facendo in questo modo e vedete nel video. Bloccando alla fine dell'imbastitura con un bel nodo per fissare il tutto. Ed ecco qui un bel nodo, tagliamo il nodo e avremo diciamo questa situazione qua. Ecco ve l'ho lasciata per farvela proprio vedere perché io ho avuto inizialmente difficoltà a capire il come montare la cerniera invisibile e sbagliavo sempre. Ma adesso andiamo alla macchina da cucire, togliamo il piedino che abbiamo standard e mettiamo il piedino per la cerniera invisibile in questo modo. Quindi lo montiamo, ecco qua, e poi iniziamo a posizionare la nostra cerniera all'interno della scanalatura della cerniera invisibile. Quindi quello che dovete fare è inserire la linea dentellata nella scanalatura destra del piedino, abbassare il piedino e iniziare a cucire partendo dal bordo superiore fino ad arrivare più in basso possibile, facendo in modo che l'ago entri nella scanalatura della cerniera. Aiutandovi con le dita vi faciliterete parecchio il vostro lavoro, perché permetterete di fare in modo che l'ago vada a inserirsi proprio molto vicino al bordo della vostra cerniera, in modo tale che il lavoro venga più preciso possibile. Ed ecco qui, sono arrivata fino alla fine della cerniera, fin dove potevo arrivare. Ed ecco qui, io ho già inserito l'altra parte, la parte sinistra della cerniera lampo con i miei spilli. Anche in questo caso vi consiglio di utilizzare non solo gli spilli, ma di imbastire la nostra cerniera e poi eliminare passo passo gli spilli che prima la bloccavano. Tutti questi passaggi io capisco che possano essere noiosi per la maggior parte di voi, ma in sartoria non bisogna avere fretta. Questa è veramente l'insegnamento che ci dà la sartoria, anche dal punto di vista psicologico, perché cucire ci forma la pazienza, ci rende più pazienti. Dunque passiamo alla macchina da cucire e cuciamo nello stesso modo, come abbiamo fatto dall'altra parte, solo che dalla parte sinistra, il nostro piedino, facendo le stesse cose, quindi aiutandoci con le nostre dita ad aprire la cerniera lampo invisibile e quindi i suoi dentini e andando a cucire il più vicino possibile alla parte più interna della cerniera lampo. In questo modo come vedete nel video. Anche in questo caso devo arrivare fino alla fine della cucitura della cerniera, più vicino possibile, in modo tale da poter insomma applicarla. Ecco il motivo per il quale dobbiamo scegliere una cerniera lampo più lunga di almeno due centimetri, proprio per questo motivo. Sollevo, ecco faccio dei punti indietro e la mia cerniera è applicata. Tolgo il piedino e metto il piedino standard per cerniera lampo. Dobbiamo completare la cucitura cominciando dal bordo inferiore della cucitura appunto fino alla fine del capo da confezionare. Metto il piedino sotto trovando la fine della cucitura dove la cerniera finisce. Attaccherò la cerniera e abbasso l'ago esattamente nel punto giusto e poi faccio dei punti indietro e cucio per il resto della cucitura fino alla fine del capo. Il vantaggio di eseguirla in questo modo è che non vi ritroverete con una bolla sul fondo della cerniera e invece se si studiamo la cerniera prima questo non succede. Arrivo a cucire fino alla fine del mio capo, ecco qua, e ho finito. Inizio a stirare. Stiro il mio corpetto e stiro anche la cerniera. Stando attenti a non usare un ferro da stiro troppo caldo, quindi utilizzate delle temperature moderate per non rovinare i dentini della cerniera lampo invisibile che comunque sono sempre in plastica quindi bisogna stare attenti. Ed ecco qui il mio lavoro finito sul dritto, ecco, ho stirato tutto per bene, come vedete è uscita perfettamente la cerniera lampo. Non si vede minimamente la fine dell'attaccatura della cerniera come vedete. Ecco qui, quindi ripasso sul dietro, sulla parte davanti, cuccio sempre molto bene, ricordate di passare sempre il ferro da stiro che è il ruffiano del sarto, ricordatevi. Ed ecco qui, andiamo a vedere come è riuscita perfettamente la l'attaccatura della cerniera lampo. Guardate un po'. Perfetto, perfetto, non si vede proprio neanche la fine come vedete. Direi che sono molto soddisfatta del mio lavoro e molto molto felice. Spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia stato utile e allora lasciatemi un bel like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella in modo tale da essere sempre aggiornati sui nuovi video che verranno caricati. Inoltre vi volevo ringraziare per tutti i nuovi iscritti, per tutti i commenti meravigliosi che mi lasciate sia sotto i video e sia in privato. Grazie veramente di cuore e ci vediamo al prossimo video. Ciao a Sibiri e buon cucito!